Siamo qui al CEBE, tenente Manuel Clavero, una scuola speciale dove ci sono dei bambini meravigliosi, dei guardiani della biosfera speciale per portare l'adozione scolastica di Daniela Lucchese. Daniela è veramente una persona meravigliosa che oltre a Genesis una bambina speciale qui della scuola ha voluto aiutare e adottare scolasticamente in modo speciale anche lui, questo stupendo guardiano della biosfera speciale che ha un ritardo mentale. Daniela da poco ha anche aiutato con le due adozioni scolastiche all'interno della foresta amazzonica, due bambini ed è veramente una nativa digitale straordinaria, grazie Daniela per questo aiuto che va veramente a chi ha bisogno. Signora, quantos anni tiene Tuico? Lui ha 9 anni, in che grado va? Tercero grado. E va in terza elementare, lui ha dei grandi problemi di comunicazione, per questo parla la madre. Dimmi, chiede salutare e agradecerla a signora Daniela che sta appadrinando Tuico e speriamo che lo continua a appadrinare per i vari anni. Sì, le voglio ringraziare a signora Daniela Niccesi per dare, a portare in situazioni economiche, questa è una caida del cielo, che Dio le dà su bendicione, che lo venga a visitare, a conoscere a Jordi, e che sia, che sia, che sia, che sia, che sia, che sia davanti a tutti i nostri spettatori che lo necessitano, perché lo necessitiamo di verano. Daniela, la signora, tu capisci spagnolo, comunque faccio una piccola traduzione, la signora ti ringrazia, ti invita ufficialmente qui a conoscere il piccolo guardiano della biosfera speciale, e veramente va a una famiglia che ha tanto bisogno. Grazie Daniela, un saluto, ciao Daniela! Grazie. 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 Grazie a tutti.